Musica Dopo aver ascoltato la rivelazione di Tommaso Zorzi, infuriato dall'ipocrisia di Adua, che prima rivela la presunta omosessualità di Morra e poi piange con il rosario in mano, Matilde Brandi è subito corsa dalla giovane attrice. Matilde ha svelato ad Adua le parole di Tommaso, che nel frattempo ha spifferato a gran parte dei concorrenti quanto riferito in hotel. Adua, stai zitta, zitta, andiamo a parlare con Piera per cercare di salvare il salvabile, afferma Matilde che aggiunge una frase che il web non le perdona. Speriamo di essere protette. Anche Matilde era presente alla chiacchierata incriminata, ma in puntata ha negato tutto, confermando la versione di Adua e Massimiliano. Le rivelazioni di Tommaso hanno tuttavia cambiato le carte in tavola, svelando la bugia delle tre, che ora cercano di salvare il salvabile. Inizialmente Matilde e Adua entrano in confessionale insieme per seguire una strategia comune. Dopo poco tuttavia Matilde esce e rivela, ho chiesto se si poteva non registrare. Hanno detto di no. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.